E' uscito il rapporto Excelsior, arrivano delle notizie buone. Sì, l'ultima parte dell'anno vede un fabbisogno stimato delle imprese di oltre 8.000 unità e per il mese di ottobre circa 3.500. Rimane però il problema purtroppo annoso di quel 34% di personale che le nostre aziende non riescono a trovare sul mercato. In quale settore? Sono soprattutto nel settore della ristorazione, del commercio direi, ma anche soprattutto per quello che riguarda la manifattura, le nostre specializzazioni distrettuali, oreficerie, operai specializzati. Purtroppo nonostante la ripartenza anche buona che c'è stata in questi settori, il fabbisogno occupazionale spesso non riesce a incrociare l'offerta. Sto appoggiando qualcosa alla Camera di Commercio a proposito? Sì, stiamo recuperando un rapporto sempre più stretto che già ormai è consolidato, ma comunque stiamo riprogettando iniziative con l'ufficio scolastico territoriale, con il polo universitario, con tutti quelli che sono gli agenti per la formazione anche del territorio in collaborazione con le associazioni di categoria, proprio per recuperare insieme al mondo della scuola quello che manca ancora per raggiungere veramente i bisogni che in questo momento chiede il mondo del lavoro.